Musica Benvenuti alla resegna stampa di sabato 30 luglio 2016 insomma ridendo e scherzando siamo già arrivati alla fine del mese di luglio l'estate va avanti, prosegue, scivola via, giorno dopo giorno il santo di oggi lo vediamo subito un santo tutto nostrano, un santo italiano è San Pietro Crisologo San Pietro Crisologo nacque poco prima del 400 a Imola è stato il vescovo Cornelio di quella città che a guidarlo come buon pastore al sacerdozio morì nel 450 ed è dottore della chiesa il sole è sorto alle 5.54 e tramonterà alle 20.34 il cielo oggi sarà sereno o al più poco nuvoloso per debole attività comuniforme solo nei settori interni temperature in lieve aumento per domani, domenica 31 luglio giornata densa di manifestazioni sono salve almeno dal punto di vista meteorologico garantiranno cielo sereno o al più poco nuvoloso con aumento della copertura durante la notte tra domenica e lunedì le temperature sono ancora in ulteriore aumento ecco il primo di agosto il primo di agosto invece avremo qualche precipitazione sparsa a carattere di rovescio e localmente di temporale lo vedete nell'entroterra urbinate e al Conero e sui Sibillini quindi precipitazioni sparse temperature minime in ulteriore aumento quelle massime sono stazionari oppure in lieve diminuzione per quanto riguarda i giorni successivi già dalla giornata di martedì l'instabilità tenderà a diminuire con ritorno di condizioni di piena stabilità per la giornata di mercoledì la pagina di Fano del resto del Carlino asfaltano alle 9 di mattina bus e trasporti nel caos i pendolari inferociti sconcerto alla stazione delle Corriere di Fano chi arrivava dal Val Cesano ha mancato il mezzo per recarsi a Pesor Urbino il direttore di Adria bus si giustifica abbiamo dovuto far partire il 99 altrimenti il ritardo si sarebbe accumulato cronaca dunque di una giornata come tante però marcata da un episodio che poi si è ripercorso un po' su tutta la viabilità e anche nel lavoro di noi che andiamo a lavorare ancora con la macchina ex vigile purtroppo gravissimo dopo lo schianto un furto tra un'auto e uno scooter sulla statale adesso si trova ricoverato in rianimazione si tratta di un incidente che è accaduto ieri intorno alle 17.15 davanti alla scuola alberghiera stiamo parlando di Maurizio Tamburini di 75 anni ex vigile urbano di Pesaro che ha urtato lateralmente una macchina condotta da una quarantenne ora si trova in rianimazione l'altra notizia che troverete con i dettagli è questa qua un altro infortunio sul lavoro un muratore 54 anni in prognosi riservata dopo una caduta in cantiere è scivolato all'altezza da un'altezza di due metri è successo ieri in via Vanzolini poi terrore al mercatone 1 ieri sera intorno alle 19 due banditi hanno gettato a terra due clienti sotto la minaccia delle pistole mercatone 1 è quello che si trova a Pesaro hanno sfasciato ha sfasciato a colpi di mazza le teche dei gioielli sembravano spari in realtà erano soltanto dei colpi di mazza su questi espositori con l'intento in pochissimi minuti di raccimolare il più possibile gioielli e quant'altro hanno puntato subito ai preziosi rompendo tre espositori in vetro questa è la cronaca da Pesaro Beato Sante il campanile torna nuovo pronto ad accogliere il flusso dei fedeli di agosto una spesa di 40.000 euro abbiamo dovuto attendere un doppio ok dal bilancio e dalla soprintendenza la pulitura poi si è proceduto con il consolidamento delle parti che erano state distaccate dalle radici pur ritenendolo da subito una priorità di questa amministrazione ha detto il sindaco di Monbaroccio Angelo Vichi i tempi tecnici sono stati sono stati quelli sono stati quelli di 4 o 5 mesi poi sotto invece addio a Nando fratello di Ucchielli oggi a Tavuglia i funerali è morto a 76 anni Nando Ucchielli i funerali ci saranno alle 10 nella chiesa di San Lorenzo a Tavuglia abbiamo già detto fratello di Palmiro Ucchielli sindaco di Vallefoglia ancora dalle pagine del resto del Carlino Aset c'è un esposto alla procura dopo la fusione presentato dai consiglieri del Vecchio e Santorelli Alberto Santorelli lo vedete tiene in mano appunto il documento due erano stati diffidati dal consiglio di amministrazione della Holding il 5 luglio scorso Bacchiocchi del PD abbiamo dettato la linea alla quale si è aggregato anche il centrodestra Fano adesso è viva dura replica di Adaguzzi sulla sua ex gestione interviene il vice segretario del PSI Caporelli si parla dell'eredità lasciata appunto dall'ex sindaco di Fano che è governato la città per 10 anni hanno lasciato solo problemi dice l'esponente del socialista Seri invece li sta risolvendo passo dopo passo deve risarcire una famiglia il comune di Fratterosa ed è per questo che purtroppo si avvicina il dissesto il paese deve pagare quasi un milione di euro ai polverari un dipendente comunale perse la vita cadendo in una scarpata c'è la responsabilità del comune la sentenza prevede quasi un milione di euro appunto per questa famiglia e dunque Fratterosa è vicina al dissesto scrive questa mattina il giornale apriamo velocemente il Corriere Adriatico da Fano referendum pronta la deroga il sindaco spegne le polemiche del movimento referendario si potrà votare anche ad ottobre la giunta ha approvato una delibera di modifica dello statuto che sarà portata in consiglio il prossimo 4 di agosto e Cecconi l'onorevole dei 5 stelle l'app giustifica decisioni già prese interviene sull'applicazione di Google Maps che il governatore Ceriscioli ha già anticipato di voler utilizzare per scegliere il posto dove costruire il nuovo ospedale che servirà alle due città di Fano e Pesaro sulla fusione delle due aset fusione infuocata parte la denuncia Santorelli e Del Vecchio presentano un esposto alla procura per la difida ricevuta da Aset Holding scontro in consiglio con Riccardo Severi unico a difendere il CDA serie fulvi solidali ma la mozione non passa Fausto e Del Vim pazienti il sogno può attendere unioni civili la coppia forse potrà già trascrivere le nozze il prossimo 16 di agosto Fano capofila delle città dei bambini il ruolo assegnato nelle Marche il primo elenco dei comuni virtuosi sono 21 la giunta Seri approva l'accordo per uno sviluppo urbano misura di infanzia e di adolescenza e poi l'altra pagina del Corriere Adriatico la andiamo a vedere subito la pista ciclabile quella che il comune sta e vuole realizzare in Viale Adriatico saranno cancellati però i parcheggi si inizia con l'eliminazione di otto stalli step successivo per un secondo percorso l'architetto Stolfa illustra la pianificazione per raccordare tra loro i vari tracciati questo è il punto più o meno in cui verranno realizzati verrà realizzata la pista sacrificando otto posti auto area protetta incompatibile con un ristorante gli ambientalisti contro l'allargamento del chiosco Kendua Beach a Baia del Re dicono no alla costruzione di un ristorante sulla spiaggia nell'area floristica protetta appunto nella zona vicino a Gimarra la Valle del Cesano un milione per l'incidente fatale il comune ora rischia il dissesto e quello di Fratterosa l'abbiamo già visto poco fa nell'altro quotidiano invito dice Alessandro Valtroni che è il sindaco di Fratterosa invito i cittadini all'assemblea pubblica che è stata fissata per il 4 di agosto certo un paesino così piccolo che ha un bilancio così ridotto un milione di euro prevede certamente il dissesto il comune dell'olio e del vino siamo a Orciano insieme daremo più servizi lettera ai cittadini fermata dai sindaci dell'Unione Roveresca e delle minoranze l'accorpamento valorizzerà cultura e solidarietà economia ed eccellenze agricole mentre San Lorenzo in campo le proloco del territorio ai vertici regionali Maria Sole Tognazzi questa sera invece sarà nei giardini della Rocca lo spettacolo a Mondolfo per parlare del corpo femminile tra potere e società ancora la pagina di Senigallia ubriaco dà inescandescenze insulti al personale e agli utenti un'altra zuffa al pronto soccorso di Senigallia dopo quella che c'è stata l'altro giorno l'allarme antincendio suona per oltre un'ora prima che qualcuno provvedesse a spegnerlo pugni alle porte prima e poi alle pareti il pulsante si rompe grande disordine scrive il giornale Corriere Adriatico questa mattina da Urbino invece la pagina di Urbino eccola qua ancora cronaca un ex prete è questo che vi cerchio con l'evidenziatore giallo ex prete Armando Bicchiarelli rapinato aggredito e rapinato in casa fino a pochi anni fa era sacerdote a Isola del Piano ora è stato ridotto allo stato laicale è successo questo fatto a Urbania e a far entrare nell'abitazione i malviventi un giovane a cui questo ex sacerdote aveva offerto ospitalità ad allertare i carabinieri sono stati vicini di casa che hanno udito dei lamenti provenire appunto dall'appartamento di fianco è tutto la nostra rassegna stampa finisce qui vi ringrazio per averci seguito vi auguro una buona giornata vi ricordo che alle 8.30 questa mattina non andrà in onda la messa come al solito perché siamo ancora nel cuore della giornata mondiale della gioventù che si sta svolgendo in Polonia con Papa Francesco e milioni di giovani allora oggi il programma prevede alle 8.30 la visita al santuario della divina misericordia e il passaggio della porta della divina misericordia poi c'è il rito della riconciliazione quindi il Papa confesserà alcuni giovani e alle 10.20 invece dal santuario di San Giovanni Paolo II ci sarà la messa quindi chi vuole assistere alla messa chi non può andare a messa nelle proprie parrocchie ecco può seguire quella delle 10.20 nel pomeriggio anzi stasera intorno alle 19 dal campus misericordie passaggio della porta santa con i giovani e veglia di preghiera con appunto i ragazzi che partecipano alla GMG domani ultima giornata domenica 31 di luglio ultima giornata di festa con questo incontro domenica alle 9.15 dal campus santa messa poi alle 17 incontro con i volontari e alle 18 dall'aeroporto la cerimonia di congelo quindi intorno alle 18.15 il Papa prenderà l'aereo che lo riporterà a Roma e poi nel suo stato città del Vaticano è tutto grazie per aver seguito la Rassegna Stampa arrivederci grazie a tutti Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.